Dopo la SOI proseguono i cantieri per il miglioramento sismico a Pesaro, ora è il turno dell'edificio del Genio Civile. Sì, vogliamo mettere in sicurezza i palazzi strategici del capoluogo di provincia, investimenti complessivi per 3 milioni e 600 mila euro tra il palazzo della SOI, i lavori della SOI che abbiamo già fatto partire, sono avviati proprio questa mattina, ho fatto un sopralluogo per vedere come stanno procedendo i lavori e oggi consegniamo i lavori invece per il palazzo del Genio Civile, un palazzo che aveva un indice di vulnerabilità sismico molto basso, quindi dobbiamo metterlo in sicurezza secondo i parametri di legge, un altro investimento da 1 milione 800 mila euro per la grande attenzione che vuol mettere la Giunta regionale, l'assessorato alle infrastrutture per questo capoluogo che poi da quest'anno è capitale italiana della cultura. Pesaro non deve essere solo capitale italiana della cultura per il 2024 ma deve avere degli edifici sicuri a servizio del capoluogo e dell'intera provincia. A questi interventi si sommano anche gli interventi di edilizia sanitaria e ospedaliera in tutta la provincia e in tutta la regione, in modo particolare a Pesaro perché a questi 3 milioni e 6 per la sicurezza si aggiungono i 204 milioni per il nuovo ospedale di Pesaro. Veramente investimenti importanti per questo capoluogo a cui teniamo particolarmente e d'altronde è il comune capofila di tutta la provincia.